Oggi parliamo di come realizzare foto perfette in tutte le condizioni quando ci troviamo in montagna, un video che mi avete richiesto in tanti dopo il successo del mio ultimo video come fare foto perfette al mare. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia e oggi vado a raccontarvi quali sono i miei trucchetti per portarmi a casa sempre delle ottime immagini quando mi trovo a scattare in montagna, sia che stiamo scattando paesaggio, sia che stiamo facendo animali, flora e fauna, sia che stiamo facendo ritratto, andremo a vedere un po' tutta la casistica. Prima di cominciare vi ricordo che se siete fotografi, amatori o professionisti e volete migliorare le vostre skills o avere anche semplicemente delle ispirazioni valide per portare avanti i vostri shooting senza mai annoiarvi, la cosa migliore che posso consigliarvi è di iscrivervi adesso al canale cliccando il bottone qui sotto. Se volete anche supportare ulteriormente il canale lasciate un bel like a questo video. Benissimo, ma andiamo a incominciare, io vi devo confessare che ho provato a realizzare questo video direttamente in location, direttamente in montagna. Ve lo assicuro ragazzi, ci ho provato, però proprio perché in montagna il tempo è un po' birbantello, nel mentre che giravo il video è venuto giù un'acquazzone devastante e quindi ho dovuto rinunciare, ma vi parlerò meglio di questo aspetto alla fine del video, quindi guardatevelo fino alla fine se volete conoscere le mie disavventure. Adesso cominciamo con i segreti per fare foto perfette in montagna. Comincio con le raccomandazioni un po' della nonna se mi fate passare il termine. Ovviamente la prima cosa è la sicurezza e il benessere durante la nostra attraversata, quindi cose importanti da tenere sempre a mente, ovviamente andiamo con una dotazione adeguata, quindi scarponi da montagna non solo perché ci proteggono i piedi da eventuali distorsioni della caviglia, scivoloni o cose del genere, ma anche perché spesso e volentieri in montagna, per esempio dove vado io, ci sono delle bestie, ci sono magari delle vipere, ci sono magari dei ragni, degli scorpioni, ho niente di cui preoccuparsi, non vi sto dicendo che tornate a casa mezzi morti o senza una gamba, però ci sono degli animali, quindi se noi abbiamo la scarpetta di tela da città, il morso di una vipera è quella alla buca, mentre se abbiamo uno scarponcino, magari non uno scarponcino fast fashion, ma uno scarpone vero, il morso di una vipera non passa più, quindi siamo più protetti. Allo stesso modo è bene avere sempre dietro delle dotazioni di emergenza, quindi acqua, un paio di litri se stiamo facendo passeggiate lunghe, cibo, una barretta energetica, una tavoletta di cioccolato, insomma è meglio essere premuniti in maniera tale da riuscire a fronteggiare anche delle eventuali brutte sorprese, mio nonno rimase bloccato per due giorni da una tempesta di neve sul Monte Rosa, quindi capite bene che se avete dietro un paio di scatolette di carne salata in più, è meglio, perché così se rimanete bloccati, rimanete lì, però avete da mangiare e non morite di fame. È buona norma anche consultare le previsioni del tempo, cosa che io non ho fatto e vedremo alla fine che cosa mi è capitato. Un'altra cosa su cui non si mette mai abbastanza l'accento è, ragazzi, non andiamo da soli a fare questo tipo di escursioni fotografiche, andiamo in gruppo, almeno due persone. Questo perché in montagna non c'è campo, quindi se ci facciamo male, se cadiamo e ci rompiamo una gamba, non abbiamo modo di chiamare i soccorsi e dire oh, mi sono fatto male, venitemi a prendere. No, siamo bloccati lì e dobbiamo farcela sui gomiti, magari anche per diversi chilometri, e molti non ce la fanno. Io stesso vi dico, se io mi rompessi una gamba, trascinarmi sui gomiti con la gamba rotta che mi pesta sui sassi, non ce la farei, quindi rimani lì finché qualcuno, cara grazia, non viene a cercarti. E questo può essere un bel problema, per cui andiamo almeno in due. La regola è che se uno si fa male, l'altro deve essere in grado di chiamare i soccorsi. Ma passiamo alla parte prettamente fotografica del nostro contenuto. Che cosa ci portiamo quando andiamo a fare fotografie in montagna? Allora, vi dico la mia filosofia, che ovviamente non è la verità assoluta, è solamente la mia filosofia. Quando io sono in montagna è un ambiente un po' estremo, e quindi io vivo di estremi a maggior ragione quando vado in montagna. Per cui, quello che mi porto dietro saranno un grandangolo abbastanza spinto, quindi un 14 o un 16 mm, e un teleobiettivo abbastanza spinto. Quindi un 200 o un 300. Poi che sia un 70-200, un 70-300, lì poco cambia. L'importante è che arrivi almeno a 300. Questo perché che tipo di foto andiamo a realizzare in montagna? Personalmente scatterò solamente paesaggi, quindi mi capita il laghetto con il tronco, con il sasso, le belle cose così, la scena idilliaca perfetta, faccio una bella grandangolata, prendo un paesaggio molto ampio. Viceversa c'è uno stambecco su a 200 metri, do una zoomata bestiale, vado a 300 mm, becco lo stambecco, senza andare a dargli fastidio, anche perché se mi avvicino quello scappa, quindi non riesco ad avvicinarmi. Quindi per quanto mi riguarda sono queste due le situazioni che mi porto in montagna e posso scegliere se portarmene entrambe, ovviamente dovrò portarmi più peso, oppure se portarmene una sola e dovrò fare una scelta. Chiaramente se ho deciso di andare a visitare il lago azzurro magari so che stambecchi ce ne saranno di meno o comunque che mi interessano di meno, mi porto il grandangolo, viceversa se sono andato a fotografare le marmotte magari il grandangolo non mi serve perché ci sono solo sassi e marmotte lì e quindi amene va bene così. È sempre una questione di scelte. Altre cose che ci possiamo portare sono chiaramente un treppiede perché possiamo fare tante cose con il treppiede, magari delle pose lunghe, magari del time blending, quindi possiamo metterci sul treppiede e scattare diverse foto a diverse ore del giorno in modo da avere l'illuminazione sulla terra in un certo modo e l'illuminazione sul cielo in un altro modo, un effetto molto carino che possiamo ottenere. Possiamo fare delle pose lunghe, per esempio se ci sono delle cascate, se c'è dell'acqua possiamo portarci dei filtri, quindi oltre al treppiede in questo caso servono anche dei filtri, per realizzare delle pose lunghe in modo da ottenere l'effetto seta sull'acqua. Questo si ottiene semplicemente impostando una posa lunga, quindi 15, 20, 30 secondi, più lunga che possiamo. Avendo messo un filtro ND, quindi un filtro che taglia la luce avvitato sul frontale del nostro obiettivo, possiamo prolungare i tempi di scatto anche di giorno ottenendo un effetto mosso, quindi tutto quello che è fermo, le rocce banalmente, saranno ferme e a fuoco, tutto quello che si muove, quindi l'acqua, eventualmente qualche foglia magari mossa dal vento, tutto quello che si muove verrà con questo effetto seta molto gradevole che si usa molto spesso in questo genere fotografico. Un'altra cosa che possiamo fare col treppiede è fotografare le stelle di notte, quindi qui entriamo in un ambito un pochettino più tecnico, perché per fotografare le stelle di notte abbiamo bisogno di una macchina fotografica un po' più prestante in termini di sensibilità ISO, un'ottica con una buona apertura e abbiamo bisogno probabilmente anche di un intervallometro e se vogliamo fare i fenomeni anche di un astroinseguitore. In questo modo riusciamo a sfruttare la mancanza di inquinamento luminoso che c'è in alta montagna, quindi avremo una via lattea ben visibile, avremo delle stelle molto più visibili rispetto alla città e con il nostro treppiede riusciamo a fotografare un bel paesaggio con tutta la nostra stellata sopra. Se abbiamo un astroinseguitore riusciamo anche a fare dei dettagli delle stelle con delle pose un po' più lunghe perché l'astroinseguitore ci permette di catturare le stelle in movimento, sapete che le stelle si muovono intorno a noi, o meglio siamo noi che giriamo, però quindi c'è un movimento e se noi fotografiamo entro i 15 secondi circa, se facciamo una posa di circa 15 secondi riusciamo ad avere le stelle abbastanza a fuoco. Se superiamo i 20 secondi le stelle cominciano a ovalizzarsi, quindi cominciano a fare la scia e questa è una cosa non bella da vedere. vero anche che noi potremmo utilizzare un intervallometro per fare delle pose lunghe e quindi impostiamo l'intervallometro in maniera tale che faccia uno scatto ogni, non so, 20 secondi con un intervallo di 2 secondi fra uno e l'altro. Una volta in post produzione possiamo unire tutti questi scatti e quindi ottenere la scia delle stelle che ci fa un effetto molto gradevole. Ovviamente per fare questo dobbiamo metterci quasi tutta la notte perché serviranno tantissime immagini per realizzare questo collage in post produzione. Questa ovviamente è una tecnica digitale che una volta si faceva molta fatica a portare a casa perché si doveva portare a casa con uno scatto solo e quindi era difficilissimo calcolare filtri su filtri per tagliare la luminosità, una posa lunghissima e poi chissà se era venuta bene. Senza contare che l'ulteriore vantaggio del digitale è che noi adesso potremmo metterci in posizione di giorno quando si vede ancora, potremmo fare la nostra composizione di giorno perché poi di notte è difficilissimo. Quindi componiamo un paesaggio di terra che ci piace e mettiamo già a fuoco correttamente. Scattiamo il paesaggio di terra durante la golden hour, durante la blue hour, quando ancora c'è un po' di luce e poi mantenendo tutto esattamente in posizione, cambiamo i parametri, quindi serve un treppiede che non si muova, cambiamo i parametri e cominciamo a scattare con l'intervallometro, cominciamo a scattare le foto delle nostre stelle quando è il momento, quindi ore dopo. In post produzione riusciremo a fare il nostro collage delle nostre stelle e poi andremo a miscelare la parte della terra con un po' di luce diurna, così otteniamo un effetto dove tutto è illuminato esattamente come vogliamo. Questa è probabilmente una delle cose più tecniche che possiamo fare in montagna. Venendo ai paesaggi normali, adesso caliamo un pochettino di difficoltà, facciamo qualcosa di più semplice, paesaggio normale, la roba più semplice del mondo, quindi scattiamo tra f8 e f11 così abbiamo tutto il nostro paesaggio bello a fuoco, scattiamo con gli isobassi se siamo su treppiede, se c'è la possibilità, se siamo a mano libera dobbiamo un po' adeguarci, quindi dovremo tenere un 125esimo di tempi di scatto e quindi andremo a regolare gli iso di conseguenza, ma se siamo su treppiede andremo a impostare gli isobassi, quindi isocento, isobase e andremo a regolare i tempi di conseguenza che è quello che io consiglio, perché in questo modo abbiamo la gamma dinamica massima e abbiamo una bella resa dei colori e non andiamo a perdere niente, andiamo a dilatare i tempi che è il parametro che ha meno effetto sulla nostra scena, perché in un paesaggio sì magari c'è la fogliolina che si muove, però avremo un bel paesaggio praticamente tutto bello a fuoco con la massima resa sia di gamma dinamica sia per quanto riguarda i colori. Una cosa ulteriore che possiamo fare quando stiamo facendo paesaggio ovviamente è il bracketing e il focus stacking e queste due tecniche possono anche essere combinate, quindi diventa una cosa molto lunga e io non lo consiglio perché diventa una cosa veramente un po' eccessiva, però nel momento in cui noi siamo su treppiede possiamo realizzare più scatti della nostra scena e come ho già spiegato tante volte in altri video o proprio alcuni video dove faccio vedere il procedimento quindi andateveli a recuperare se volete vedere come si fanno queste due tecniche, possiamo per esempio andare a scattare foto con esposizioni diverse in maniera tale che abbiamo magari la nostra montagna in ombra con un'esposizione e il nostro cielo dietro che è più luminoso con un'altra esposizione, così riusciamo ad avere l'esposizione che vogliamo su più parti illuminate diversamente del nostro paesaggio. Questa è una tecnica molto molto bella che dà dei risultati molto appaganti a mio parere, io la utilizzo non dico sempre ma diciamo che faccio fatica a non utilizzarla ormai perché so che la resa mi piace di più quando faccio così, quindi vado a espandere la gamma dinamica del mio sensore e è una cosa che mi piace molto e che consiglio quantomeno di sperimentare. L'altra cosa che possiamo fare è il focus bracketing, ovvero nel momento in cui noi mettiamo a fuoco, stiamo facendo un paesaggio e mettiamo a fuoco qualcosa di vicino a noi, prendo un esempio stiamo facendo magari il laghetto con il tronco e con dietro le montagne, bellissima, idilliaca, fantastica, il problema qual è? Il tronco è la cosa più vicina a noi, noi sappiamo, regole fotografiche ci aiutano a sapere che la cosa più vicina dovrebbe essere a fuoco perché sennò se mi sfochi il primo piano l'occhio vaga, si perde, non è molto edificante come fotografia, quindi il nostro soggetto, il nostro primo piano deve essere perfettamente a fuoco, però noi non abbiamo fatto tutta quella strada per fotografare in tronco, noi vogliamo anche le montagne dietro, vogliamo tutto quanto a fuoco. Ora noi potremmo chiudere a f22 però non riusciremo lo stesso a ottenere l'effetto desiderato perché a f22 quindi abbiamo chiuso tutto il diaframma, quindi abbiamo tanta profondità di campo, potenzialmente abbiamo tutto a fuoco, però quello che succede è che perdiamo in nitidezza perché chiudere così tanto ti fa perdere nitidezza. Qualcuno mi dirà facilissimo usa l'iperfocale, a me non piace l'iperfocale, vi dico perché, perché l'iperfocale stabilisce che a una certa distanza riuscirò ad avere tutto a fuoco, ma io non voglio andare a una certa distanza, io non mi voglio allontanare dalla mia scena, io ho composto tenendo il tronco vicino a me perché lo volevo vicino a me, io non voglio che la mia creatività venga limitata da una carenza ottica di costruzione che però è così, non ci si può fare niente. Quindi io rifiuto completamente il discorso dell'iperfocale in questo caso perché non voglio che una carenza tecnica della mia lente mi costringa a cambiare la mia composizione, io voglio quella composizione lì. E allora che cosa faccio? Faccio una foto con il tronco a fuoco, poi faccio una seconda foto con a fuoco il laghetto dietro al tronco e poi faccio una terza foto con a fuoco le montagne sullo sfondo. E se voglio fare il fenomeno faccio anche una quinta foto con a fuoco le nuvole. In questo modo in postproduzione posso sommare i diversi piani della mia foto e ottenere una foto perfettamente a fuoco attraverso tutti i piani. Una cosa di nuovo molto molto bella, molto molto edificante che a me capita ogni tanto di fare, devo dire non spesso perché quando faccio un paesaggio classico non ce n'è bisogno. Se faccio un paesaggio con un primo piano molto vicino a me, ecco che anche se scatto con un 16 mm, con un bel f11, f13, ecco che faccio fatica ad avere tutto a fuoco, faccio fatica a mettere a fuoco così vicino e non avere lo sfocato in fondo. Quindi in quel caso posso pensare di fare il focus bracketing. Posso anche pensare di unire le tecniche. Pensateci bene perché diventa una cosa molto pesante sia da fare sia soprattutto da post produrre. Perché a questo punto noi dovremo fare una posa mettendo a fuoco il nostro tronco e facciamo tre scatti in bracketing. Poi spostiamo il nostro fuoco e mettiamo a fuoco il laghetto e facciamo tre scatti in bracketing del laghetto. Poi spostiamo ancora la messa a fuoco e mettiamo a fuoco le montagne dietro e altri tre scatti. Poi mettiamo ancora a fuoco più indietro e facciamo altri tre scatti per le nuvole. Per cui ci ritroviamo con più di 10 scatti. Più di 10 scatti cos'è? 3x4 è 12. Più di 10 scatti per una singola immagine, per una singola composizione abbiamo 12 scatti da post produrre. E su questi scatti dovremmo fare prima il merge to HDR per la nostra serie di tre. Quindi tre foto con a fuoco il tronco facciamo l'HDR. Tre foto con a fuoco il laghetto facciamo l'HDR. Poi esportiamo tutti i DNG risultanti e a questo punto facciamo lo stacking per ottenere la foto perfettamente a fuoco. Anche su questo se volete vedere il procedimento completo ho già un video che vi lascio in card in cui faccio vedere bene come si fanno questi procedimenti. Tenete conto che se lo facciamo così diventa molto lungo. Ovviamente se vogliamo fare una stampa fine art della madonnissima questo è il modo giusto di farla perché così avremo la massima qualità possibile avremo la nostra lente che lavora bene perché perché si fa tutto questo giochino invece di chiudere tantissimo il diaframma perché se io scatto a f8 la mia lente performa meglio che non a f22 quindi avremo un'immagine più bella più contrastata più nitida. Quindi io scatto a f8 metto a fuoco le parti che mi servono e poi le unisco così ho aggirato i difetti tecnici della mia strumentazione e mi porto a casa una fotografia che è perfetta in ogni sua parte sia per quanto riguarda l'esposizione sia per quanto riguarda la nitidezza. Parliamo un pochettino di animali dai buttiamo dentro due bestie. Ovviamente in ambiente montano è possibile incontrare degli animali che manco a farlo apposta in città facciamo faticare perire per cui possiamo portarci a casa delle belle fotografie di caprioli, stambecchi, daini, cervi, marmottine, talpe insomma è pieno di bestie, ramarri, è pieno di creature molto molto carucce che possiamo trovare praticamente solo lì. Per cui se siamo lì in cerca di begli scatti di animali io consiglio ovviamente di portarsi dietro la lente più lunga che avete ovviamente peserà quindi pensiamoci bene magari il 600 mm è un po' tanto però se avete un 300 potrebbe essere l'ideale. Lo zoom ovviamente è molto premiante perché a un animale non si può né chiedere di rimanere fermo mentre noi andiamo avanti indietro né chiedergli di mettersi in posa quindi se abbiamo uno zoom abbiamo migliori probabilità di beccarlo. Impostazioni di scatto perfette per fotografare animali secondo me non esistono. Io consiglio di stare tra un 250esimo e un 500esimo come tempi di scatto perché gli animali come detto si muovono quindi dobbiamo beccarli quando quando ci sono e quindi probabilmente dovremmo anche fare le cose che io odio fare qualche raffica perché magari si muovono velocemente. Scattare con dei tempi troppo lunghi ci farà portare a casa delle foto tutte mosse quindi dobbiamo scattare abbastanza rapidi e probabilmente con le ottiche che abbiamo se abbiamo dei teleobiettivi o dei super tele se abbiamo dei 2.8 bene meglio. però è anche molto probabile che avremo dei 5.6 o addirittura 7.1 perché molti teleobiettivi escono con un diaframma di base che è già quello. Devo dire che non è del tutto un male perché comunque scattando animali spesso e volentieri un f2.8 non è sufficiente magari con un 5.6 siamo più sicuri di riuscire ad avere a fuoco quello che ci serve perché con una profondità di campo sottile su un animale che si sposta rischiamo sempre di non riuscire a prendere a fuoco quello che vogliamo. Ovviamente dovremo sacrificare che cosa? L'unico parametro che possiamo ovvero la sensibilità ISO. Quindi dovremo regolare gli ISO di conseguenza per mantenere il nostro diaframma 5.6 o 7.1 quello che è per mantenere il nostro 250esimo 500esimo di secondo e quindi è probabile che dovremo sparare su a ISO anche 3200 anche se siamo di giorno. Ovviamente è un compromesso. Noi dobbiamo decidere se portarci a casa le immagini nitide e a fuoco seppure con un po' di rumore oppure se portarci a casa delle foto scattate a ISO 100 senza rumore però con l'animale mosso. Ovviamente una grossissima differenza in questo caso a differenza che nei casi precedenti la fa il sistema di messa a fuoco della nostra macchina perché quando si fotografano animali un sistema di messa a fuoco prestante è essenziale. Ora io mi odio per quello che sto per dire ma le mirrorless in questo caso performano molto meglio perché addirittura possiamo dire alla macchina se stiamo fotografando animali addirittura gli possiamo dire in alcuni modelli se stiamo fotografando uccelli o quadrupedi quindi la macchina capisce molto bene quello che stiamo fotografando va a beccare l'occhio dell'animale portiamo a casa dei risultati molto migliori soprattutto i risultati si portavano a casa anche prima ma soprattutto riusciamo a portare a casa più foto giuste della stessa bestia mentre prima magari con una reflex le facevamo lo stesso però ne facevamo giuste tre ne sbagliavamo due la mirrorless ce ne fa portare a casa un pochettino giuste in più quindi ci aiuta molto sulla messa a fuoco veniamo a qualche piccola controindicazione quando si fanno fotografie in montagna soprattutto in alta montagna allora innanzitutto in montagna abbiamo una presenza di raggi uv un pochettino più marcata rispetto che in città per cui ecco che i nostri famosissimi filtri uv quelli che mettiamo sempre davanti al frontale dell'obiettivo come protezione quei filtri trasparenti che non fanno niente avete presente noi li abbiamo usati tutti beh effettivamente fanno qualcosa tagliano i raggi uv ecco che in montagna può essere utile avere un filtro uv sempre montato perché ci va a tagliare quella radiazione che dà una colorazione di solito azzurrina che possiamo non volere nelle nostre immagini quindi personalmente lo tengo montato il filtro uv a maggior ragione quando vado in montagna perché in circostanze normali non fa niente in quella circostanza mi aiuta a tagliare un po di radiazione che potrei non volere nelle mie immagini un'altra controindicazione e qui parliamo di ambienti montani molto freddi riguarda le nostre batterie infatti se siamo in bassa montagna o in collina abbiamo tranquilloni se siamo in alta montagna e c'è la neve se andiamo a zero gradi o sotto ecco che abbiamo un problema per quanto riguarda le batterie perché le nostre batterie tutte le nostre batterie sia quella del telefono sia quella delle fotocamere risentono molto del freddo quindi avremo dei tempi di utilizzo non voglio dire di mezzati ma quasi nel senso che la nostra batteria si consumerà molto più in fretta a causa del freddo e non solo si consumerà molto in fretta anche se non la usiamo quindi se noi stiamo facendo la nostra passeggiata e abbiamo la fotocamera a tracolla la fotocamera prende freddo perché c'è freddo quando la tiriamo fuori dopo ore di camminata magari la accendiamo e la batteria non è a 100% noi l'avevamo caricata ma la accendiamo ed è già al 60% si è già consumata semplicemente perché la batteria stava al freddo come possiamo rimediare sicuramente possiamo ottenere delle batterie di scorta e soprattutto possiamo ottenere queste batterie nella tasca interna del giaccone in questo modo le batterie non saranno esposte al freddo ma staranno a contatto col nostro corpo e quindi staranno al caldo se tiriamo fuori la prima batteria solo quando siamo in loco e la inseriamo solo all'ora avremo meno drain di batteria durante i tempi morti quindi nel mentre che non stiamo usando la macchina possiamo togliere la batteria e metterla al caldo in questo modo si consumerà di meno non è infrequente che delle batterie muoiano proprio per il freddo succede purtroppo se scattiamo magari faccio un esempio stiamo fuori tutta la notte per scattare che ne so la via lattea piuttosto che un'aurora boreale fa freddissimo può succedere la batteria muoia muore proprio cioè fa così freddo che durante l'utilizzo la batteria si spegne muore ed è inutilizzabile ed è da buttare via quindi è sempre bene avere dietro dei ricambi ed è sempre bene sapere che la batteria può morire in questi casi non succede sempre succede ogni tanto però può succedere e veniamo alle fotografie con la neve ora qui ci sono due diverse scuole di pensiero io personalmente non mi trovo con la prima che vi vado a esporre c'è una scuola di pensiero non so neanche da dove derivi non ho approfondito però avevo letto che alcuni fotografi consigliano di scattare la neve con iso abbastanza elevati quindi parliamo magari di iso 800 di iso 1600 personalmente non mi trovo con questa scuola di pensiero vi dico perché loro sostengono che scattare la neve con iso un pochettino più alti e quindi ribilanciare tutti gli altri parametri aiuti a ottenere un'immagine più equilibrata della neve personalmente non mi trovo con questa scuola di pensiero vi invito a provare comunque così decidete voi che cosa preferite personalmente io preferisco scattarla con iso bassissimi io scatto con gli iso base quando c'è la neve per due motivi il primo è che posso farlo perché quando c'è la neve c'è così tanta luce il bagliore che emette la neve soprattutto se colpita dal sole è così alto che io devo devo scurire la mia immagine devo sottoesporla un pochino perché altrimenti è troppo brillante troppo accesa e ho così tanta luce che posso permettermi di scattare a iso 100 e scattare a f8 barra f11 e ho ancora del tempo che mi avanza nel senso che magari con iso 100 f8 io devo scattare a un cinquecentesimo magari a un millesimo di secondo perché c'è così tanta luce che devo tagliarla devo toglierne e quindi posso permettermi di scattare a iso 100 con la massima tranquillità inoltre scattando a iso 100 io ho una gamma dinamica che è migliore piuttosto che con un valore iso più elevato e quindi riesco a catturare meglio sia le porzioni innevate sia le porzioni che di neve non ne hanno quindi magari una roccia una baita un albero che risultano neri confronto alla neve quindi se io ho una gamma dinamica migliore personalmente credo di riuscire a fare un recupero migliore sulle ombre insomma vi invito a provare entrambi i metodi e poi decidete per voi stessi dobbiamo sempre ricordarci che il sistema zonale funziona in maniera tale da esporre correttamente per il grigio medio che più o meno è la luminosità di un prato verde o dell'incarnato di un uomo bianco caucasico stato pensato apposta perché comunque cose più fotografate sono paesaggi e persone quindi ci sta che funzioni in questa maniera però questo che cosa ci dice l'esposimetro della nostra fotocamera sia che lo usiamo in automatico e quindi farà da sola ma sia che lo usiamo in manuale l'esposimetro ci restituirà comunque un valore sottoesposto perché la neve è così brillante così bianca che l'esposimetro interno della nostra fotocamera crederà di doverlo sottoesporre per portarlo verso il grigio 18 per cento quindi quando fotografiamo la neve è buona norma sovraesporre un pochino e anche qui diverse scuole di pensiero i grandi maestri dicono di sovraesporre di tre stop secondo me è tantissimo tre stop è veramente troppo e vi dico perché nel momento in cui io sovraespongo di tre stop quindi partendo dal valore zero nel momento in cui sto esponendo per la neve io sovraespongo di tre stop quello che succede è che la mia neve sì magari è più simile a come la vedo con gli occhi perché è bruciata io quando guardo la neve colpita dal sole è bruciata però è troppo bruciata nel senso che arrivo a casa e ho perdita di dettaglio invece se io sovraespongo solo di uno stop la mia neve magari in posa è un pochino troppo scura però io dopo posso andare a vivacizzarla a casa in post produzione posso decidere io fin dove arrivare senza avere perdita di dettaglio e lo posso fare tranquillamente se sto scattando in raw senza perdere niente quindi il mio consiglio è sovraesponete solo di uno stop un'altra cosa molto carina che si può fare con la neve è sfruttare il flash a nostro vantaggio in questo caso va bene anche il flash montato direttamente sulla nostra fotocamera infatti se noi scattiamo una fotografia avendo in manuale avendo esposto correttamente per il nostro sfondo ma scattiamo con il flash attivo avremo la nostra posa del nostro sfondo corretto perché il flash non arriva a illuminare fino sullo sfondo però il flash arriva a illuminare i fiocchi di neve molto vicini a noi quindi avremo questo effetto un po natalizio di avere il nostro sfondo giusto i fiocchi di neve illuminati e cristallizzati nella loro caduta perché il flash cristallizza il movimento quindi avremo questo effetto natalizio molto carino che vi invito a provare lo possiamo fare anche di notte anzi forse di notte rende anche di più perché i fiocchi di neve illuminati contro il cielo scuro si vedono ancora di più se abbiamo composto una scena carina può essere una cosa abbastanza appagante da portarsi a casa ovviamente ricordatevi che in questi casi la batteria durerà poco quindi è difficile fare un timelapse molto lungo stando fuori in un contesto del genere perché la batteria verrà drenata molto più in fretta di quello che ci possiamo aspettare un ultimo consiglio che vi do e questo è molto importante ricordatevi che se siete stati fuori a scattare nella neve o comunque con molto freddo la vostra strumentazione corre un rischio letale perché nel momento in cui rientriamo in baita in rifugio entriamo in un ambiente più caldo anche in macchina con riscaldamento entriamo in un ambiente più caldo la nostra fotocamera che è congelata viene ricoperta immediatamente di una condensa liquida questa è una cosa pericolosissima perché in questo momento la nostra macchina è in difesa perché il freddo l'ha aggredita in ogni sua parte sia interna che esterna e quindi quando si va a formare la condensa abbiamo dei problemi perché ci possono essere delle infiltrazioni di liquido ci possono essere delle infiltrazioni nel display e nella lente e la cosa ancora più grave è che se noi abbiamo la condensa su che si è formata perché siamo rientrati al chiuso e poi riusciamo la condensa si congela dentro nella fotocamera e quindi ci blocca la lente e ci distrugge tutto quanto quello che ci può distruggere quindi è probabilmente il momento più pericoloso di tutti per quanto riguarda la nostra strumentazione come si fa a ovviare a questo problema nel momento in cui abbiamo scattato all'esterno e rientriamo in un ambiente chiuso riponiamo la nostra fotocamera dentro nella nostra borsa chiudiamola perfettamente e lasciamola lì a riposare per almeno un'oretta in questo modo la condensa non sarà così aggressiva e una volta tirata fuori la nostra fotocamera potremo constatarne lo stato ed eventualmente tamponare con un panno asciugarla ulteriormente però non avremo una condensa così aggressiva e comunque in ogni caso una volta che siamo rientrati magari evitiamo di uscire a meno 22 gradi fino al giorno dopo perché comunque è un rischio che possiamo evitare ritratto ma ragazzi cosa volete che vi dica sul ritratto in montagna io personalmente eviterei di prendere la fanciulla di turno e metterla in costume da bagno nella neve per fare la foto in costume nella neve perché si becca un malanno se volete farlo fatelo per carità però ricordatevi di avere qualcosa con cui scaldarla lì a portata di mano nella neve è molto carino scattare con profondità di campo molto ridotte quindi anche se io non sono un fan delle foto artistiche dove si vede a fuoco solamente un millimetro se avete un bello 85 millimetri f 1.2 e fate dei bei ritratti nella neve durante la golden hour con la luce da una parte lì viene fuori una cosa molto bella perché abbiamo un paesaggio inusuale con un bellissimo sfocato dietro colori della golden hour sulla neve sono veramente top ovviamente per tutto quello che vi ho detto ovviamente come sempre i momenti migliori a cui scattare sono sempre l'alba al tramonto preferibilmente l'alba perché al tramonto c'è gente anche in montagna ormai si trova gente mentre all'alba è più difficile che ci siano persone perché la gente è pigra quindi qualunque cosa fate ricordatevi che all'alba avete la luce perfetta e c'è anche meno gente questo è il mio consiglio per tutto quanto tranne ovviamente le stelle o la nevicata notturna perché lì deve essere notte bene io credo di essermi dilungato anche troppo a questo punto vi lascio aperta la sezione commenti se avete domande su questo o su altro vi aspetto ricordatevi che spesso e volentieri rispondo con dei contenuti shorts verticali quindi se volete essere sicuri di non perdervi le risposte io vi consiglio di iscrivervi così vedrete nel feed le risposte che do eventualmente anche ai vostri commenti o a commenti di altre persone che però magari possono servire anche a voi bene siamo al momento dei saluti ma io prima vi devo raccontare della mia disavventura come promesso all'inizio del video sostanzialmente io mi recco in montagna vado a fare la mia bella passeggiata mi sono portato dietro tutto mi ero portato dietro la fotocamera mi ero portato dietro il microfono nel microfonino lavalier per avere l'audio bello il ricevitore i cavi e lo stabilizzatore per fare tutte quante le cose vado in montagna vado vado a fare scouting sostanzialmente trovo una location carina dove girare qualcosa comincio a girare esordisco dicendo vedete la prima cosa che avrei dovuto dirvi era di guardare le previsioni del tempo io ovviamente non l'ho fatto e parte un tuono dico ok non non sta partendo sotto i migliori auspici questo questo vlog in esterna e tant'è che io faccio appena in tempo a dire le mie due cavolate che sapete benissimo e comincio a sentire un po di piogerellina nel sottobosco al che dico per fortuna ho appena cominciato quindi non mi sono allontanato tanto dalla macchina tempo di tornare alla macchina via giù il diluvio universale e quindi desisto dico attenzione dico un sacco di parolacce ma veramente un sacco di parolacce desisto metto in macchina me ne torno nel mentre avevo già mangiato mi sono fatto una bella mangiata ho preso il sole e soprattutto scottato non so se si riesce ad apprezzare quanto io sia no guardate guardate questo sono scottato da morire quindi avevo mangiato avevo fatto tutto quel che dovevo dico vabbè sono venuto in montagna dai ho fatto una giornata in montagna il vlog non sono riuscito a farlo e quindi ve lo faccio adesso in città senza le riprese della montagna perché ho fatto veramente due secondi di ripresa e poi ho filmato il vetro il parabrezza della macchina con la pioggia che cadeva sopra quindi faceva schifo e mi sono detto è meglio se lo rifai la cosa divertente però è che io me ne sto tornando in città a questo punto mi sto facendo il mio viaggio per tornare in città sotto la pioggia un bel momento mi guardo nel guardo nello specchietto dico porca miseria sta a vedere che adesso si apre dietro di me si apre viene fuori un tramonto bellissimo sto già cominciando a mangiarmi le mani quando inchiodo con la macchina davanti a me c'è un arcobaleno doppio che ragazzi è una figata pazzesca l'arcobaleno doppio più bello che io abbia mai visto in tutta la mia vita ed è lì davanti a me e io sono in autostrada stradone bruttissimo con sopra questa roba meravigliosa vi giuro mi viene da piangere e dico porca se fossi rimasto là che poi in realtà non andava bene dove ero perché queste cose purtroppo questo è anche il bello della montagna non si possono pianificare queste cose io non potevo sapere che quell'arcobaleno sarebbe stato in quella posizione così come non potevo sapere che sì vabbè il tramonto potevo intuirlo da che parte sarebbe stato però il punto è che avrei dovuto trovare qualcosa un soggetto da mettere in primo piano non basta fotografare il tramonto cioè la foto del tramonto ve la faccio vedere anch'io così però vedete che è un bel cielo ma è brutto il tramonto così senza un cavolo davanti ci sarebbe voluta davanti una baita una costruzione una pietra una forma strana un albero qualcosa fatto così ha veramente poco senso mentre l'arcobaleno dall'altra parte per carità è bello anche così capite bene mi sono fermato con la disperazione nel cuore ho detto vabbè scendo e faccio sta foto almeno per farvela vedere a voi quindi almeno per farvi vedere la mia giornata non è stata completamente inutile perché comunque è stato un bellissimo momento io ero in macchina con la mia musichetta vedo questa scena bellissima purtroppo il paesaggio che avevo davanti era brutto e non c'era niente di bello dove poter andare a fare una bella foto lì nei paraggi ho anche provato ho fatto una fotografia con davanti delle viti c'era una vigna però non è una bella foto anzi era meglio quella con la strada forse quindi massima disperazione però sono comunque contento perché tramonto top spettacolare e tramonto dietro arcobaleno davanti e questo arcobaleno doppio era fantastico e io l'ho fotografato sono fermato a fotografarlo ho messo il piedino giù dalla macchina sono stato aggredito da un nugolo di zanzare che mi hanno massacrato nel mentre che facevo quelle tre foto mi hanno distrutto braccio e collo maledette schifose però diciamo che ne è valsa la pena perché almeno mi sono portato a casa una bella immagine dell'arcobaleno dopodiché io mi sono rimesso in viaggio e ragazzi roba pazzesca sono passato dentro all'arco dell'arcobaleno perché il mio tragitto mi portava lì quindi pian piano io ho visto questo arcobaleno che veniva verso di me che scompariva ai lati e ci sono passato sotto e quindi è stata una bella giornata e andare a fare foto in montagna è anche questo a volte te ne torni col bottino altre volte no questa volta no perché obiettivamente se mi fossi trovato in altri luoghi sarei venuto a casa con un bottino fantastico da dove mi trovavo se fatto una foto del cielo magari posso prendere questa foto del cielo incollarla su un altro paesaggio con un cielo brutto che scatterò un'altra volta si può fare si faceva già prima dell'intelligenza artificiale non è che c'era bisogno di di open ai per fare sta cosa si faceva già prima è una cosa che io ho sempre fatto però non mi piace tanto quanto io preferisco farvi vedere delle foto in cui il cielo è effettivamente quello che c'era preferisco a livello fotografico farvi vedere una scena vera perché se no sono capaci tutti se no sono capaci tutti di dire allora io chiedo all'intelligenza artificiale di generarmi il primo piano poi di generarmi lo sfondo e poi non contento dico mettimi un dragone nel cielo e così sono veramente capaci tutti invece io preferisco farvi vedere delle cose vere per cui oggi vi beccate queste foto bruttissime con un cielo meraviglioso e un primo piano che fa schifo perché purtroppo questo è quello che avevo dinnanzi a me e niente questa è la mia piccola avventura disavventura del weekend durante la quale ho cercato inutilmente di girare questo video che infatti sto rifacendo oggi spero di riuscire a farlo uscire in tempo per farvelo vedere perché so che molti stanno partendo adesso per le vacanze e questo contenuto potrebbe esservi molto utile per cui se l'avete guardato fin qui non potete esimervi iscrizione subito e like a questo video io non mi dilungo oltre e vi do appuntamento al prossimo video ciao